Si dividono la posta in palio, Vastomarina e Spoltore. Lo scontro diretto termina 2-2 dopo una gara abulica nel primo tempo e piacevole nella ripresa. Ma andiamo per ordine. Nei locali, mister Antonacci schiera il consueto 4-3-3 sulla fascia destra di difesa. Sente Romano al suo posto gioca squadrone. Gli ospiti che vengono da quattro sconfitte consecutive sono in cerca di punti per uscire dalle zone basse della classifica. Morelli schiera un 4-4-2 con colasante e planamente come terminali offensivi. Pronti partenza via e subito pericolosi Granata alla secondo con un colpo di testa di Titanna che va di poco a lato con Ian Marino che controlla la traiettoria della sfera. Alla quattordicesimo la risposta dei locali è affidata ad una punizione di Iarocci, conclusione debole e centrale. La gara da qui in poi è soporifera. I canarini si rivedono al quarantesimo con un tiro di devizia su assist di Fieroni ma la sfera finisce alle stelle. Alla 42 ci provano gli ospiti con Colecchia che non trova la porta. Alla 44esimo Belli tenta la bordata da fuori. Normale amministrazione per Ian Marino. Alla 45esimo infortunio per devizia dopo un contrasto di gioco. Il numero 7 è costretto a lasciare il campo per qualche minuto. Si va a riposo sullo 0-0. Con le immagini di Max D'Addario passiamo alla ripresa, ad avvio della seconda frazione. Al quarto il numero 10 ospite in venta per De Vincentis che calcia di prima intenzione da posizione defilata e il pallone si stampa sulla traversa. Questo il rallenti. Al settimo fallo su Fieroni lanciato a rete. Proteste dei locali che chiedevano l'espulsione per Di Camillo. Ma il 4 prende solo il giallo. Ecco il contatto in replay. Al sedicesimo il Vasto Marina passa con un euro-goal di Fieroni. L'attaccante dalla distanza si gira e scarica un mancino violento che impatta sulla traversa e poi varca la linea di porta. La rete merita di essere rivista. Nemmeno il tempo di esultare che lo spoltore pareggia al diciannovesimo con Colasante. Il numero 9 controlla in area e fulmina Iammarino. I locali accusano il colpo e al ventunesimo vanno sotto. Assegno planamente che raccoglie un invito proveniente dalla sinistra e fredda all'estremo di casa. Il Vasto Marina la palla del 2-2 tra i piedi di Fieroni che tenta un tocco morbido in acrobazia Ziai manda alto e il minuto 23 della ripresa al quarantesimo. I locali trovano il pari. Sponda di testa di De Luca che libera Fieroni. Il numero 11 prende la mira e con un diagonale fredda palena per la punta e doppietta. Al 45esimo il Vasto Marina con Cardone non trova la porta. Il gol del vantaggio. Il laterale si divora un'occasione clamorosa. Da qui a fine gara non succede altro. Il Vasto Marina guanta un non punto che fa morale dopo il pareggio con la Torrese. Lo spoltore interrompe una lunga striscia di risultati negativi. Mister Antonacci siete stati bravi a crederci fino alla fine. È arrivato un pareggio. Era importante però vincere oggi. Sì, buonasera innanzitutto. Sì, era importante vincere. Avevamo preparato la partita per vincerla. Purtroppo non ci abbiamo provato con la stessa intensità del secondo tempo dall'inizio. Probabilmente l'avremmo fatto dal primo minuto. Quella intensità, quella voglia di portare a casa i tre punti. Purtroppo poteva anche riuscirci bene. Purtroppo in settimana ci sono state tante defezioni. Tutti al 50%, al 30%. Quindi era un problema anche fare la formazione. Abbiamo cercato di fare, anche stravolgendo le nostre caratteristiche del nostro gioco. Cercando di metterci ad albero di Natale. Però gli effetti non sono stati quelli sperati. Poi abbiamo corretto un po' il secondo tempo. Però purtroppo è andata così. L'ingresso di De Luca vi ha dato una mano? Con le sue spizzate ha creato qualche pericolo in più? Nel calcio quando ti trovi in queste situazioni, a poche partite dalla fine, subentrare come tecnico in questa situazione, a questo punto, a questo mese, non è che ti puoi inventare di fare calcio a champagne. Devi cercare di prendere quello che è più buono e quello che più puoi trarre dai giocatori che hai. Certo De Luca non ha i 90 minuti, come dicevo, come tanti altri. L'esperienza sua serviva per fare quel tipo di gioco che avevamo cercato, o avevo detto di farlo dall'inizio, però non c'è stato. Poi è entrato lui che è prettamente bravo a fare quel tipo di gioco. Ci abbiamo creduto in più e si sono visti i risultati. Magari a farlo dal primo tempo stavamo qua a parlare di altre cose, senza nulla togliere la squadra avversaria. Di Camillo è arrivato un pareggio, era importante vigere quest'oggi? Sì, ma era anche importante non perdere, perché per non accorciare la distanza tra noi e loro. Sicuramente prendere il gol a sette minuti nella fine ci lascia la mano in bocca, però penso che nel complesso della partita il pareggio è stato giusto. Qualche polemica sugli episodi arbitragli? Voi come l'avete visto? Allora, non nego che sia il primo tempo il fallo di Titanna su De Vizia, che forse anche il secondo di planamento lì sotto la panchina potrebbe essere da rosso. Però credo che anche il primo tempo su Di Me ci fosse un ricordo che non ha trattenuto. Tanto gli episodi arbitrali nell'arco del campionato si equivalgono alla fine, quindi effettivamente questi due episodi a favore loro sono stati un po' dubbi, dove l'arbitro si è cacciato in rosso e noi non potevamo assolutamente protestare.